Stefano, oggi vogliamo parlare di un qualcosa di diverso, di un impianto non tradizionale, quindi uscire un attimo da quello che è il discorso home theater, casa, e entrare in un impianto per la palestra. Mi hai fatto vedere un impianto realizzato con i nostri prodotti in una bellissima palestra a Trieste, raccontami qualcosa in più. Oddio, quello là è un impianto, a parte che quando tu dici un bellissimo impianto, scusami, ma è chiaro che se ci metti su delle gocce diventa bellissimo di per sé, c'è poco da fare. Si tratta di una palestra nella quale abbiamo fatto una palestra tra l'altro molto particolare dove ci si allena con delle tute che di fatto sono anche degli elettrostimolatori, sono molto avanti a livello tecnologico. Lì abbiamo fatto un impianto multi-room dove, visto che hanno curato comunque anche molto il design e diciamo anche la parte immagine è stata curata nei dettagli, avevo suggerito di inserire delle gocce che secondo me ci stavano perfette e appena le hanno viste hanno detto sì, giusto. È un impianto a quattro zone che si può gestire, insomma ormai i sistemi moderni, lo fai tutto con l'iPad, Spotify, Wattidal, fai suonare tutte le zone che vuoi, col volume che vuoi, eccetera. Ma com'è nata l'esigenza di questo impianto? Il cliente, come ti dicevo, è abbastanza sgamato dal punto di vista tecnologico. Immaginare una palestra senza musica direi che è veramente improponibile. Se poi la musica è di qualità, nel senso, come dire, la qualità audio è buona, sicuramente anche il cliente è più soddisfatto. Quindi l'esigenza è abbastanza ovvia se vogliamo. Per fare un impianto di questo tipo, le tempistiche, diciamo, di realizzazione dal progetto al proprio l'impianto finito, quindi il chiave in mano, più o meno, quanto sono? Diciamo una quindicina di giorni in massima si fa tutto. È chiaro che non siamo solo noi nel momento in cui si va a lavorare in una, ad esempio, ti faccio l'esempio della palestra, ci sono molte cose da fare, quindi dobbiamo noi aspettare, nel caso che, non so, se devo mettere delle casse ad incasso, devo aspettare che il cartongesista abbia finito il suo lavoro. Ma in linea di massima, in quindici giorni, si inizia a sentire musica. Visto che hai suggerito le gocce al cliente, come è stato accolto questo suggerimento di un diffusore sospeso, un diffusore in ceramica, insomma, qualcosa, diciamo, di non convenzionale? Beh, se vogliamo le ho suggerite proprio per quello, a parte che sono innamorato delle gocce. Ce le avevo in esposizione in negozio, quindi il cliente quando è entrato le ha anche viste. mi ha fatto vedere un po' i disegni della palestra e dato che avevano, giocavano molto sul bianco, nero e giallo, ci ho visto proprio, c'era un angolo, mezzo nero, cioè una parete a specchio, una parete nera e ci ho visto la goccia perché poi veniva replicata dallo specchio che secondo me veniva veramente un bel effetto e infatti poi il risultato finale è stato veramente bello. Hai ricevuto un feedback dal titolare della palestra e anche feedback magari dalle persone che si allenano, comunque che frequentano quella palestra? Allora, sicuramente il feedback l'ho avuto all'istante in cui le abbiamo appese perché ne abbiamo messe a soffitto e appena le abbiamo messe proprio si è capito immediatamente che piacevano di brutto. Poi in effetti sono arrivate altre due richieste da parte di frequentatori di quella palestra, hanno un po' chiesto informazioni proprio sulle gocce e siamo stati ben lieti di spiegare tutte le varianti che ci sono. Ti dico personalmente, comunque le suggerisco spesso perché è un diffusore talmente particolare che è veramente unico nel suo genere, quindi sai quando una cosa ti piace non fai neanche fatica a suggerirla. Un impianto di questo tipo come viene gestito a livello proprio di controllo remoto? Molto semplicemente, diciamo che lì abbiamo messo un player a quattro zone con un finale a 12 canali che poi abbiamo utilizzato perché c'è anche il subwoofer, insomma abbiamo utilizzato per tutti i diffusori che sono, pur essendo quattro zone in realtà poi i diffusori sono addirittura dispari perché abbiamo fatto cose un po' particolari come ti dicevo. Viene gestito semplicemente con un iPad tu hai la zona docce, spogliatoi diciamo, hai la zona fitness, hai la zona palestra vera e propria e un'altra zona docce praticamente, tu semplicemente selezioni in quale zona e cosa vuoi che suoni e a che volume, insomma poi puoi anche naturalmente con un unico, hai anche il volume comune quindi puoi alzare o abbassare tutto quanto, ma se vuoi puoi addirittura suonare per ogni zona è una cosa diversa. Tutto molto semplice, ti do anche una news che non sai e il cliente in questione mi ha chiamato qualche giorno fa e mi ha detto che ha intenzioni di quest'estate di ristrutturare la sua abitazione e vuole replicare lo stesso impianto, quindi preparati perché ci sarà da lavorare. È una preparazione piacevole. Potresti darmi un budget indicativo per la realizzazione di un impianto di questo tipo? Oddio, lì dipende chiaramente molto dalla qualità di ogni singolo componente. Qui credo che siamo stati sotto ai 6.000 euro per tutto materiale, lavoro compreso, insomma. Non è molto se pensiamo che di fatto sono quattro impianti alta fedeltà, perché tengo a sottolineare che comunque siamo su player che comunque mi gestiscono ai 24 bit, 192 kHz, quindi stiamo parlando di musica di altissima qualità, insomma. Bene Stefano, credo che, visto che ho preso qualche chilo in più, mi iscriverò in palestra alla Fit Your Body a Trieste. Io l'ho già fatto, eh. Io l'ho già fatto. Eh ma si vede, si vede che hai il viso più slim. Io ho già fatto la prima lezione, diciamo così, ti assicuro che è massacrante. In mezz'ora vai via finito. Bene, bene. Però funziona. Proverò anche questa esperienza. Grazie Stefano, alla prossima. Grazie, ciao.